Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere alcuni problemi riguardo all'Easy Antichit su Lordsoft fuori ovviamente stanno avendo alcuni problemi quindi in questo caso andiamo nella libreria di Steam su Steam Maps Common e andiamo sul nostro gioco ovviamente faremo alcune modifiche sulla proprietà del gioco quindi in questo caso pensiamo prima all'Easy Antichit quindi va installato questo file batch Windows e una volta installato uscirà questo un install anti-cheat quindi in questo caso una volta installato questo file batch dobbiamo andare un attimo nella sua cartella e qui dobbiamo fare alcune modifiche quindi questo Easy Antichit il setup va cliccato sopra e va fatta una riparazione a me non esce ovviamente se esce a voi una schedina voi dovete fare un install reinstallate e poi riparate questo Easy Antichit una volta fatto andiamo un attimo nella proprietà del gioco quindi in questo caso vai sulle firme digitali qui come potete vedere c'è l'Easy Antichit la firma digitale è un certificato che poi dobbiamo installare quindi lo andiamo a installare su questo utente corrente e poi andiamo avanti e una volta importato così il certificato chiudiamo tutto e poi una volta fatto andiamo sempre su proprietà compatibilità eseguiamo questo programma come amministratore facciamo applica e andiamo un attimo su questa modifica delle impostazioni dpi voi ragazzi se avete delle spunte qua sopra toglietele e fate ok una volta fatto andiamo a fare una modifica su Steam quindi eccoci qua su Steam andiamo sulla rotella proprietà e poi andiamo su file installati e bisogna fare così una verifica integrità dei file del gioco e una volta fatto vediamo se il nostro gioco si apre oppure no e poi andiamo a fare una volta ovviamente il gioco è partito il gioco funziona quindi ogni tanto devo sempre accettare questo contratto non capisco perché che poi mi fa vedere sempre la storia la cosa buffa è che il gioco funziona però ogni tanto esce questa notifica dicendomi che va installato su un SSD più veloce io lo tengo installato su un NVMe come M2 SSD Crucial e mi esce sempre questa notifica più di questo non posso fare altro quindi se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere alcuni problemi se hai altri problemi commenta e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao